eccoci qui per la ottava parte di Dead Island eravamo rimasti qui ripartiamo da dove dove ci fa ripartire il gioco quindi dobbiamo andare da Sinamoi e vedrai cosa ci dice ah vabbiamo finita la missione il progetto scossa prendiamolo ah dovessi preparare con lui le secondarie non ne ne avevamo più l'ottambolo non ne posso fare questo quindi parlo sempre con Sinamoi dovevamo preso il camion il carro della miseria vai dal meccanico per rinforzare il camion speriamo che non sia diventato uno zombie il meccanico abbiamo bisogno di lui perché noi non siamo dei meccanici ovviamente che bel blindato con questo meno gli spazziamo via gli zombie gli spazzagliamo via facciamo la cresta non si vede quasi niente però difficoltà il sole davanti boom da estra troviamo i puntini altro zombie altro zombie al macello due ubbagliato strada non si vede niente oh oh sono rimasto bloccato prima volta che succede una cosa del G forse c'è troppa luce forse c'è troppa luce abilità ah non abbiamo niente non posso far nulla opzioni gamma abbassiamo un po' la luminosità va va così andrà bene va un po' meglio ma c'è troppa luce perché vado sempre a imbottigliarmi che cosa è difficile da guidare siamo arrivati il carro della miseria che pulisci ah beh allora con cavolo che esco li ammazzo prima così prima no stanno arrivando altri ancora uno lì in poltiglia ok esci dal veicolo quindi qua c'è una ragazza filmatino no dove ci fosse un filmato a questo punto invece niente allora parla con il meccanico però prima potenziamoci e facciamo questa di qui riduci il rischio di richiamare l'attenzione dei nemici va bene parla con il meccanico non è lei il meccanico però prima lo vistiamo un po' martello martello può fare un cambio con un'arma no però coltello è anche utile pochi soldi ma parliamo con il meccanico non c'è più niente trovo da fare non c'è questo qua su calamita ok parliamo con quindi ti restano sei ore di vita lo fai in sei ore a farmi il blindato a rimettermelo a posto va bene proteggiamo l'officio tu lavora che gli zombie penso lì non ti preoccupare però adesso sono senza mezzo devo attaccarli con può pensarci io qui c'è qualcosa 17 dollari proteggi l'officina devo andare avanti da dove arrivo ah di qua ah scavalgano pure i muri bravo senza mani senza testa questa arma qui vi faccio affettine venite avanti dai 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 su vi aspetto al vargo da dietro il signore vuole un braccio una gamba tutti morti qui c'è qualcosa no oh si anche arma è doppia lama fatta in casa sottile no poi se è sottile si rompe subito non conviene prenderla i nemici di qui allora venite o no tu con la maglietta rossa ha perso anche lui ha perso una mano questa qui ha perso sia una mano un braccio che una gamba però voglio provare a cambiare l'arma com'è questo qui il nuovo il martello di seconda mano ho rischiato eh ho rischiato grosso qui devo di morire ma ce l'ha fatta ti ho messo meno di 6 ore al meccanico ho messo filmatino rimesso a nuovo proprio blindato potenziato a prova di zombie ma ci sono anche gli altri mia figlia non può restare qui cosa? pronto non sarò nella mia mente non voglio perdere non voglio I'm not leaving you. Look, look at me, look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Scena commovente. Scena commovente. Non guasta mai. Il nostro povero amico Herr, dopo averci fatto il blindato, si tramuterà uno zombie. Prima però vorrei bere un po', perché sono messo proprio male. Riparare le armi non si può, eh? Oh sì? Ho riparato il macete proprio per il miracolo. Dobbiamo parlare con lei? Ah, un pronto soccorso. Un kit medico. Parliamo con Jean. Che cosa? I don't know. In viaggio esci dal resort per trovare cibo, armi e medicine. Andiamo Forse andiamo in qualche nuova location Ma devo guidare? Tocca a me? Non si capisce se devo andare di qua Di là Come di qua Bene lo stesso Mi sono impuntato Ho la difficoltà in questi giochi Con i mezzi a guidare Non ha una buona guida il gioco O almeno sinceramente a me non è che piaccia molto Magari ad altri piace Però a me proprio no Quindi qua Dritti Poi adesso che l'ha blindato si vede ancora meno Ancora mezzo chilometro da farci Ma di arrivare a destinazione nella bandiera rossa Qualc'altro zombie non ma ce l'ha bene Qui? C'è un fottuto pull ma Corriera Ma c'è anche lei è vero Devo fare attenzione Non muoio la ragazza Adesso mi sono accorto di lei Della sua barra della vita Vicino a fianco alla furia Del mio personaggio Qui è arrivato a atto 2 Abbiamo finito il primo atto Capitolo 5 Benedizioni Nuova location? Forse sì Anche nuovo video Anche nuovo video E' un buon nemico E' uno zombie ma Con una camicia di forza Chi è? Hannibal Lecter? Trova la maschera Maglio il macete Che dai più forte con le armi da taglio Deposito di Gini Posso buttarti qualcosa? Martello Tubo pesante Bastone Coppia lama fatta in casa Anche le molotov Non ci faccio nulla Con le molotov Allora Ah Qui c'è Le merendine Un po' di roba Un paio di dollari Dei bulloni Che Cosa ci faceva Questa qui non si sa Cosa ci facesse Un bullone Una morta Un paio di punta E c'è Un paio di amici C'è anche Un paio di terra Che mi ha steso Va bene va Visto ci siete Furia Adesso vediamo Questa è la furia Quindi posso entrare dentro Hanno aperto loro Ah trofeo Vendo affarato Ho guadagnato un trofeo Allora Spalanca Alla porta del paradiso Con te posso fare affari? Fai affari con Ah Tirapugni Leggero atroce Ma non ho soldi Vendi Cosa posso vendere? Cosa ciò che non mi serveva niente Non c'ho nulla da venderti Di valore Forse Ma io non Compra Niente Non compro nulla Stiamo qui Stiamo qui guardiamo Andiamo con quello che abbiamo Quindi di voi nessuno ha bisogno Ma soldi sono questi qui ho Sì 100 dollari 106 Proprio una miseria Quindi vado di qua Sì Pregano Pregano di non essere trasformati in zombie Immagini O per i loro Defunti Ma mi sembra che questa qui Questa qui sembra che non stia tanto bene Allora Ah ho dei punti abilità Non me ne ero accorto Furia La furia durò più a lungo Sì Può parlare con La suora Suora L Si Io parlo con la sua L Ma no Fa tutto da solo Please help us silence these bells They are calling to the devil's disciples Andare di là Dicela di là Ferma le campane Ah Mancato Mancato Alla terza dove ho proprio per forza Che però c'è uno zone Un assassino Un po' duretto eh Aia Tocco Ha le chiavi del campanile Quindi Prendi una extra Non posso fermare l'acqua C'è lo spreco Niente Quindi Ah un progetto Apro il codice dei comandi Fermare le campane Ah è qui Devo tornare dalla Suora Qui c'è un po' di soldi Ah raffiamoli che è meglio Va che a noi servono I soldi dei fedeli Poveriti I demoni Sì 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 Ha già subito Mettato Mazza regolare Ah Oh Questa è buona Questa è buona Allora hanno le missioni secondarie Quindi le posso attivare Sì Noi che sono qui Smugambe Quando la madonna si è iniziato Mi sono potuto evacuare qui Ma La mia figlia e la mia figlia Non si è iniziato Non si è iniziato Alguien mi ha detto Si è iniziato Si è iniziato Mi ha detto Si è iniziato E si è iniziato E si è iniziato E si è iniziato E si è iniziato Un'estate di pazza Non questo Non lo faranno Puoi farlo? Ok Posso provarci Non lo farò Qui c'è una foto Sì Ma come le trovo? Facci Ah Me l'ha attivata già Quindi Posso già Posso anche andare però Qui mi devo abbassare Forse c'è qualcosa Infatti c'erano un bel po' di soldi Prima però voglio attivare anche l'altra missione Poi le faccio Aguard Creads Posso fare anche la tua Noi ci siamo Facciamo un po' di missioncine Magari potremmo qualche arma nuova Potendo L'ultima possibilità sul muro Sfiggi i manifesti Ok allora si Posso iniziare da queste qui Sto per fare due missioncine Già che sono qui Visitiamo un po' anche il luogo Dai Farsi un giretto Intanto sblocco anche Il trofeo andato e ritorno Girando Qua se c'è qualche zombie Rompiamo qualche test Tanto è tutta esperienza Ma è E' scarica Già si stanca subito Da stare Si chiama colpito da dietro Ah un altro Forse è meglio le lame Si stanca meno con le lame Lei Cos'è male odora Venite Venite Non mi fate paura Sono qui per una missione Non mi fate paura Mettiamoci Mettiamoci Facciamoci un'iniezione Qui dentro Qui non c'è Un po' di sol L'arma si sta Deteriorando Ah, un kit va bene Gli stanno bruciando sicuramente Ne facciamo ste due missioncine Su Ammazzo un po' a meno Che è? Mi hanno ammazzato Con un colpo solo? Possibile? Quello che adesso ho, l'arma a mezza Ah, ho punti abilità Va bene, questo qui è sempre utile Però Denaro 700 Se muoio mi Devono i soldi, devo fare attenzione a non morire Ah, andate e ritorno, perché prima non l'avevo preso qui Andate e ritorno Ah, un altro kit Quindi qui c'è la E qui che devo affliggere i manifesti Affligi il manifesto Chi è? Qui c'è un'altra missione Prima mi ha apparso una cosa Missioni Simon dice Questi qua Quelli del deposito Sono qui Ciò che ci sono Mi conviene Ammazzato Che cavolo Fatemi sotto Cioè ma è già stanco È già stanca Che ci sono è rimasto solo te entra nel deposito ma poi siete tutti capite delle missioni che volete fare avete un po' in tanti eh spero di attivarle tutte però per ora faccio solo quella delle... ah qui posso aggiustare un po' le armi posso attivarle tutte però come ho già detto non le farò adesso posso attivarle tutte però come ho già detto non le farò adesso i muri no posso anche attivarle tutte trevi se le attivo tutte e poi si faranno in un secondo momento ma Cosa? Quali tipo di spettacolo dovrebbe fare. Diciamocici queste pezzi di riduzione. Sto cercando di raffinare un radiotto di CB, fino a che possa finalmente ottenere qualcuno per salvare. Ma ho scelto qualche parte. Ne ho bisogno di trasformare e qualche cable. Ci sono in un'azienda che non troppo da qui. Tu pensi che puoi trovare loro per me? Absolutamente. Lo attivo tutte, un po' ritorno all'altra Florencio, questo è i sbagli Probabilmente non potrebbe essere necessario, eh? Sì 5 bottiglie di alcol Prendi qualcosa Qualcuno Sono morto, mio frate e io sono venuti qui da Corea per lavorare Per mandare i soldi per la nostra famiglia Per mandare i soldi per la nostra famiglia E queste cose hanno cercato di uccidermi Se non per Nick, sarei morto Mi portano qui Ma mio frate, ancora in un appartamento Probabilmente pensi che sono morto E' solo qui, non è sicuro qui Potremmo trovarlo e portarlo qui, per favore? Sì Non ho niente qui da portarti Ma abbiamo i soldi, puoi portarlo Siamo vivendo a 13 C. Hut Grazie E per favore Trovate il mio frate E' preoccupato di lui Per favore Per favore Carla Il mio frate è quasi semplice E non posso respirare senza Il stress di tutto questo E' semplice E' semplice Per favore E' semplice E' semplice Per favore E' semplice E' semplice E' semplice E' semplice E' semplice E' un di questi Ucate Poi 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 All my money, credit cards, passport, and my daughter's picture, she's back home in New York, she's the only thing keeping me going, I'm here I'm business, and I promised her I'd be back in time for her 10th birthday Disappointed her so many times I just don't want to break that promise Help me find those bastards Absolutely They shot us by the drugstore close to the canal They're probably still hanging around there I don't know, I don't know, I don't know 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 Si Stiamo facendo i manifesti e finiamo i manifesti Sotto la pioggia C'è un mercato C'è un mercato C'è un mercato C'è un mercato Trofeo guadagnato Poi ho dato un altro trofeo eh Mannaggia Adesso che piove non ci sono più gli zombie Non... Non vengono più C'è un mercato Ma non ci sono Ma non ci sono Anche quello esplosivo Facciamo saltare prima lui va Ah hm Salta per alba Ci per saltare anche gli altri Ah bello Ancora tirato gli altri qui Ancora due lì ma li lascio stare un po' di soldi qui c'è anche un altro da te ritorno c'è qualcuno qui? attivano un'altra missione ormai da che ci siamo parliamo con questo qui hai deciso di aiutarti? sono in sono non capace di essere un po' bugger che bocca come un figlio per me quindi se sarà finito dovrebbe essere tu vediamo se puoi andare in e cercare cosa è bloccato la porta non si fa subito qui ma... ma dopo va dopo 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 vediamo con i muri vediamo con i muri mi ha iniziato quella e voglio finire con quella ho fatto questo buon giro puristico chi è che mi ha buttato per te? ma... ma... non l'ho visto via state lontani non voglio essere infettato non voglio essere infettato non voglio diventare un morto vivente che riesco a restare un vivo morente di un morto vivente via che mi ha attaccato qualcuno posso tappezzare anche questa? ancora... non abbiamo finito ho ancora da mettere ancora altri poster l'ho visto ma ti lascio lì coraggio dai vai subito qui no 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 bravo bravo esplodi bravo bravo un telefono ah una pistola no non ho ancora preso la pistola ricrocio dei nemici ancora tre aia l'arma è quasi qui sul martello attenzione apriamoci è meglio le lame eh però mancanza d'altro mancanza d'altro ah qui posso aggiustare non ho aggiustato il macete no venga 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 Andare di qua Cuoco, occhio Questi qua sono abili lanciatori tra l'altro Riescono a rompermi le scatole lanciandomi le cose Ed è morto Persi i 23 dollari E si è scagliato addosso Pazienza Tavola di legno non ci faccio niente Dimmi, dimmi che è l'ultima Così almeno posso smettere Ah, finalmente Torna da Voi evito assolutamente Me ne prego di voi Facciamo un'altra missione L'attivo ormai che sono qui Ma come ci vado qui? Non posso Ho un progetto Beh ho trovato anche dell'alcol eh Dai di qua forse ci posso salire Ma che ci sono l'attivo dai Terra Terence Ma quando vedo delle missioni secondarie le attivo Poi si fa Non ho un problema A volte danno cose buone esperienze Divento più forte Sì Non ti preoccupare Terence Se la trovo si Oh Ah La bottiglia d'alcol ha anche Ah Ecco tutte le bottiglie vai corri via 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 andiamo via fa di nuovo piovendo qui il tempo cambio in fretta manco possiamo in montagna non da male che la nostra Xian corre se no sarebbe un problema altro kit altre missioni sono apparse, non c'erano come queste bene, tanto consegniamo a Ward un progetto qui che abbiamo guadagnato qui cos'è? scusami, ha diabetese e senza insulina non lo farà non l'ho già attivata, scusa sono convinto di sì anche la tua di chi è? tua dov'è? di sopra? qui non ci sono salito ancora c'è un altro la Raymond, cosa vuoi Raymond? c'è un altro la 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 ah perché l'ho finita ah 602 dollari va bene ma ho finito l'altra missione subito quella la di prima c'è un altro con cui parlare qui no? se non mi sbaglio ah no questa qui è la missione quella della suora possiamo aggiustare l'arma da che ci siamo e voilà forse possiamo anche comprare possiamo anche comprare qualcosa kit medio dai voilà non so se me lo conterà quando poi ricomincerò però ok quindi rimaniamo qui nella chiesa e complete e qui si conclude l'ottava puntata di The Dice Land ci si rivede per il prossimo per la prossima puntata il prossimo video e magari faremo qualche missioncina secondaria ma qui ho trovato anche dei soldi va bene allora ah no aspetta ma qui c'è un'altra missione a Teresa non l'avevo vista ma non gliel'avevo date scusa scusate ah no non bastano quattro niente allora mi ero illuso allora dove c'è la sua ok allora come stavo dicendo si vede alla prossima puntata per la nona ciao ciao